Percy B. Shelley Completiamo con la serata di oggi tutto il nostro ciclo di video sui poeti romantici sia della prima generazione sia della seconda generazione eravamo arrivati qualche mese fa a fare due poeti romantici della prima generazione Coleridge e Blake abbiamo promesso che avremmo fatto un incontro su Wordsworth l'abbiamo fatto e quindi abbiamo completato la prima generazione per quanto riguarda la seconda generazione abbiamo fatto prima una diretta su John Keats poi ne abbiamo fatto una su Lord Byron e questa sera appunto completiamo con la diretta su Percy B. Shelley Percy B. Shelley come vedete è nato nel 1792 ed è morto nel 1822 quindi ha 30 anni è senz'altro uno dei più importanti poeti romantici inglesi anzi in un certo senso lui è proprio colui che può sintetizzare in un certo senso la vita romantica vissuta all'insegna della fuga e della protesta rivoluzionaria lui che era nato in una famiglia borghese sicuramente allineata all'establishment una famiglia ricca aveva una bella residenza lì in Sussex a Field Place che era stata costruita dal nonno il nonno Sir B.S. era stato il fondatore delle fortune della famiglia insomma già l'edificio rappresentava quello stile di vita stabile, privilegiato, confortevole dell'alta classe borghese inglese lui però da subito si mostra molto diverso rispetto a suo padre suo padre, Timothy Shelley era molto meno originale rispetto al nonno e poi rispetto a suo figlio nel senso che era un tipo decisamente conformista mentre invece Shelley subito fece capire quando andò nei vari suoi college insomma che dovete frequentare fino ad Oxford fece capire che voleva essere contro tutte le regole che gli venivano imposte per esempio gli veniva imposto di studiare greco latino a lui non piaceva il greco latino a lui piaceva la chimica e soprattutto tutti i legami che c'erano fra la chimica e l'astronomia nel campo probabilmente anche dell'alchimia ha sviluppato però una grande finezza e competenza e capacità insomma poetica ed è stato uno dei fondatori si può dire della poesia moderna contemporanea inglese nel senso che è stato un po' una guida anche per tanti poeti inglesi delle generazioni successive anche dell'età vittoriana lo vedremo questo era assolutamente una persona con uno stile di vita anticonvenzionale convenzionale scusate rivoluzionario lui era nato nel 1792 quindi un anno importante direi per la rivoluzione francese l'anno in cui i giacobini presero il potere ebbene sicuramente lui era rimasto molto molto colpito dalle idee della rivoluzione francese mediate in Inghilterra da un certo Tom Paine che aveva scritto sui diritti dell'uomo era irrequieto litigava sempre spesso comunque con i suoi compagni una volta ficcò una forchetta infilzò un compagno di studi con una forchetta perché l'aveva fatto arrabbiare era insomma un giovane nobile ma molto molto irrequieto isolato da tutti e da tutti a soli 19 anni venne espulso dall'università di Oxford per un suo scritto sull'ateismo pensate che in questo scritto c'era scritto più o meno perché è necessario l'ateismo capite che in quella società perbenista in quella università tradizionale che era l'Oxford di allora lui risultava sicuramente un pesce fuor d'acqua e comunque uno che doveva essere cacciato via a questo punto lui ruppe con la famiglia per sposare la sedicenne Harriet Westbrook con la quale iniziò un'esistenza errabonda acquistandosi la fama di sovversivo per esempio si spostava con lei in Scozia poi andava in Irlanda tra l'altro proprio in Irlanda incominciò anche la sua propaganda politica scrisse dei pamflet politici fece dei comizi e cercò di favorire le classi piumi lui che tra l'altro abbiamo detto era nato in una famiglia ricca ricchissima invece attraverso queste sue posizioni politiche cercava di rappresentare o di difendere gli interessi degli umili in quel caso per esempio c'erano dei cattolici che erano perseguitati e lui prese le loro difese si mise a studiare nel frattempo i testi di Platone della Grecia classica leggeva anche Shakespeare nel 1813 si innamorò di Mary Mary Godwin che era figlia del filosofo William Godwin tra l'altro lui aveva letto uno scritto di William Godwin che era uno scritto sulla giustizia Harriet allora disperata si uccise pensate la prima moglie di Shelley si uccide perché lui si innamora di un'altra donna Harriet però aveva già visto in quegli anni burascosi dei suoi pochi anni di matrimonio prima di suicidarsi aveva già potuto verificare come fosse particolarmente diciamo al di fuori degli schemi il loro rapporto e spesso appunto stavano insieme con amici e condividevano tutto al di là delle convenzioni borghesi usuali ma come stavamo dicendo questa volta Harriet di fronte a questo innamoramento di suo marito si uccise il fatto di questo ulteriore scalpore Shelley sfuggito a un processo a questo punto dovete scappare dall'Inghilterra e andare in esilio in Italia era tra l'altro una voce molto scettica quindi che rappresentava un punto di vista sicuramente divergente rispetto alla maggioranza delle persone in un periodo in cui i poeti romantici per lo più erano cristiani lui abbiamo detto si dichiarava ateo si dichiarava materialista attenzione però questo non vuol dire che fosse del tutto priva di ideali la sua poesia anzi prendeva delle posizioni delle posizioni radicali ma anche spesso era contemporaneamente una cosa e l'altra quindi per esempio abbiamo detto che era uno scettico che era un ateo che era un materialista ma in certi in certi brani in certi testi si mostra invece panteista e quindi è sicuramente insomma anche il suo modo di pensare certe volte contraddittorio però avanti con i tempi pensate per esempio che lui e la moglie Mary Shelley Mary Godwin che poi adesso noi stessi conosciamo con il nome di questo marito quindi con il cognome del poeta erano tutte e due oltre le convenzioni borghesi erano vegetariani e anche avevano una concezione di famiglia e anche del ruolo della donna completamente diverso rispetto a quello che era in voga al tempo accenneremo oggi a una poesia importante che è Ozymandias che è il nome di un faraone egizio inventato e poi invece approfondiremo un po' il discorso su Lode al vento dell'ovest Shelley diventò l'idolo delle successive due o tre generazioni di poeti sia dei poeti dell'età vittoriana sia dei poeti pre-Raffaelliti poeti come Browning Tennyson e Yetz devono molto a Shelley qual è il rapporto di Shelley con gli altri due grandi poeti della seconda generazione dei poeti romantici inglesi cioè John Keats e Lord Byron sicuramente è un rapporto di grande intesa lui li criticava un po' perché non erano abbastanza radicali non erano abbastanza sovversivi rispetto alla sua posizione la posizione di Shelley che era decisamente più anticonformista il rapporto con la moglie l'abbiamo già detto il rapporto con Mary Shelley fu di grande complicità e quando ci fu la famosa gara per scrivere un testo lì in Svizzera dove si trovava insieme ad altri amici che fu vinta proprio dalla moglie Mary Shelley con The Novel quindi con il romanzo Frankenstein Percy Shelley fu contentissimo e scrisse persino l'introduzione ad un'edizione del 1818 al romanzo della moglie Frankenstein di cui abbiamo già parlato abbiamo già fatto parecchi video su Frankenstein o il Prometeo tra l'altro su questa tematica del Prometeo incatenato del Prometeo liberato lui stesso ritornò scrivendo proprio un testo la tragedia Prometeo liberato sintetizzò il suo vitalismo nella famosa poesia il trionfo della vita ecco lui soffriva di tisi era quindi anche contento di essere giunto in Italia perché sperava che il clima potesse guarirlo dalla tisi che lo minacciava in Italia proprio che scrisse appunto queste poesie il trionfo della vita l'ode al vento di Ponente la tragedia Prometeo liberato ecco nell'aprile del 1822 Shelley si stabilì con sua moglie Mary in un paesino vicino a Lerici in Liguria dalle parti di La Spezia più o meno di ritorno da una gita in barca a vela fu colto dalla tempesta la sua barca naufragò e lui quindi morì il suo corpo fu ritrovato dieci giorni dopo su una spiaggia vicino a Viareggio una volta cremato perché non voleva essere sepolto le sue ceneri fuono deposte a Roma nella sezione riservata ai non cattolici agli acattolici nel cimitero del Verano ah sì ecco mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa importantissima cioè che la madre di Mary Shelley cioè la madre dell'ultima moglie di Shelley era Mary Wollstonecraft anche lei importantissimo esponente dell'illuminismo britannico è una delle prime femministe della storia anche di questo abbiamo parlato quando abbiamo fatto la diretta sul femminismo con la moglie Mary Shelley fece viaggi lunghissimi pensate che si era unito a lei quando lei era appena appena una sedicenne ah ecco proprio nell'anno della sua morte nel 1822 aveva pubblicato il giornale il liberale insieme col suo amico Leif Hunt Hunt tra l'altro era stato anche lui cacciato espulso perseguitato dall'intelligenza universitaria e inglese e quindi era un suo grande amico che l'aveva accompagnato anche nei suoi viaggi aveva fatto dei viaggi abbiamo parlato della Svizzera abbiamo parlato della Toscana e poi abbiamo detto insomma della Liguria quando laddove è morto anche insomma dicevamo Shelley in una tempesta che aveva affondato la barca la nave sulla quale si trovava questo giornale il liberale fu venduto in più di 4.000 copie abbiamo detto che volevamo accennare appena appena alla poesia Osimandias perché è molto originale molto interessante ecco lui fece tanti viaggi fece anche dei viaggi in Egitto e vide delle rovine di una statua di Ramses II e fu molto molto colpito da queste rovine e questo gli ispirò questa poesia in questa poesia chi parla insomma ricorda di aver incontrato un viaggiatore proveniente da una terra antica che potrebbe essere appunto l'Egitto che racconta la storia delle rovine di una statua nel deserto del suo paese natale due enormi gambe di pietra stanno senza corpo e vicino a loro una massiccia testa di pietra fatiscente una testa di pietra che sta per essere inghiottita dalla sabbia del deserto giace infatti mezza affondata nella sabbia l'espressione accigliata e il ghigno di freddo comando sul volto della statua indicano che lo scultore comprendeva bene le passioni del soggetto della statua un uomo che si unghignava con disprezzo per quelli più deboli di lui ma nutriva il suo popolo a causa del suo buon cuore la mano che li scherniva e il cuore che li nutriva ecco tra l'altro questo potrebbe anche far riferimento a se stesso quindi a qualcuno che si sente comunque portavoce di un modo di pensare che non è compreso dalla sua gente dal suo popolo ma comunque che vuole bene al suo popolo si potrebbe riferire dicevamo al poeta stesso che rimane inascoltato anche se dice delle verità proprio perché dice delle verità scomode che la maggior parte della gente non è disposta ad accettare sul piedistallo della statua compaiono le parole il mio nome è Osimandias re dei re abbiamo già detto che si tratta di un personaggio inventato una specie di faraone inventato dalla fantasia di Shelley guarda le mie opere o potente e dispera ma attorno alle rovine decadenti della statua non rimane nulla solo le sabbie solitarie e piatte che si stendono attorno ad essa lontano ecco l'iscrizione del piedistallo potrebbe indicare una presunzione di grandezza che però poi dopo viene smentita dal fatto che attorno a questa statua non c'è niente se non nella sabbia del deserto ecco questo è il testo proprio di osimandias quindi che racconta la storia che noi abbiamo sintetizzato prima cioè l'incontro di questo viaggiatore da una terra antica e poi appunto tutto il racconto che vi ho detto prima cioè di come questo viaggiatore parli di queste questo tronco di piede insomma che si trova lì in mezzo al deserto e di questa iscrizione my name is osimandias king of kings look upon my works and despair nothing beside remains però non c'è niente intorno a questa statua approfondiamo invece dicevamo la conoscenza della poesia ode al vento di ponente le liriche di Shelley in realtà non sono un'opera ordinata per esempio non c'è una raccolta di poesie con un titolo insomma lui scrive così un po' preso dall'ispirazione in momenti diversi in occasioni diverse in luoghi diversi cerca sempre di raggiungere immagini molto suggestive superando le barriere della realtà sensibile per spingersi oltre per spingersi verso l'infinito le cose gli oggetti ad esempio prima vi ho visto la statua queste rovine di una statua in questo caso invece il vento non sono che pretesti per ardite analogie una nuvola appunto il respiro del vento il mare generano armonie metafisiche Shelley presenta consistenti affinità sul tema dell'infinito e della morte con il poeta tedesco Novalis e con il nostro Giacomo Leopardi le sue opere sono al tempo stesso sogno e poesia di riflessione in una sfera indefinita dove vibrano insieme le voci della natura e la ricerca di un paradiso perduto Ode al vento di Ponente dice lo stesso Shelley che fu composta quasi interamente in un bosco che costeggia l'Arno vicino a Firenze in un giorno in cui quel vento tempestoso la cui temperatura è un tempo dolce e eccitante stava raccogliendo i vapori che riversano le piogge d'autunno il canto che ne scaturisce è un'identificazione tra la vita del poeta e le forze segrete della natura identificate nella furia del vento che rianima le stanche energie dell'uomo è evidente quindi che anche in questo caso vediamo la natura da un punto di vista diverso sicuramente come elemento comunque abbiamo visto ricorrente e importante per tanti poeti romantici così come lo è stato per altri ancora di più lo è per Shelley perché abbiamo visto che c'è una sorta di immedesimazione fra il poeta e la natura il poeta si sente parte della natura ecco il discorso che vi facevo prima sul panismo di Shelley ecco ci sono cinque strofe ciascuna di queste cinque strofe ha quattordici versi e qui abbiamo un po' l'idea del sonetto lo sapete che il sonetto infatti è costituito da quattordici versi il sonetto dall'Italia è aggiunto poi in Inghilterra soprattutto attraverso la straordinaria eredità di William Shakespeare ci sono spesso anche degli schemi che invece rimandano alla terzina dantesca per esempio qui vediamo i primi dodici versi che seguono proprio lo schema delle rime incatenate del poema di Dante ecco vedete tutte queste rime seguono lo schema ABA BCB CDC DED eccetera invece le ultime due di ciascuna strofa di ciascuna di queste cinque strofe le ultime due sono rime baciate everywhere che cosa dice nella prima che cosa dice nella prima strofa oh vento selvaggio dell'ovest respiro della vita d'autunno tu che in invisibile presenza come spettri fugaci un incantatore porti le foglie morte cioè tu vento dell'ovest porti le foglie morte come un incantatore porta spettri fugaci porta dei fantasmi che si dissolvono e fuggono il mago l'incantatore quindi genera e porta con sé questi fantasmi riprendiamo dal verso numero 4 lo vedete yellow and black no? gialle e nere pallide e arrossate appestate moltitudini tu che conduci al loro scuro letto invernale le foglie simbolo delle brevi vite che l'autunno sembra rinchiudere nella sua tomba fino a quando poi il vento primaverile non le farà rinascere uniscono lo splendore della bellezza e l'orrore della putrefazione gialle e nere e pallide le foglie lo scuro letto invernale è appunto la terra i semi alati quindi sarebbero i semi che vengono trasportati dal vento winged seeds dove giacciono freddi e distesi come un cadavere ognuno nella tomba finché la tua sorella azzurra di primavera soffierà finché non arriverà appunto lo zefiro primaverile vento gentile come una fanciulla che riporterà nuovamente la vita la sua chiarina sulla terra sognante e colmerà traendo dolci gemme a nutrirsi come greggi nell'aria di vivide tinte e colori il piano e la collina la sua chiarina e la clarion sarebbe una piccola tromba sulla terra sognante over the dreaming earth e colmerà traendo dolci gemme quindi la terra sembra svegliarsi dal lungo sonno invernale attraverso la piccola tromba che è rappresentata dal vento primaverile lo zefiro il vento primaverile traendo dolci gemme quindi portando i germogli che fioriscono e che volteggiano nell'aria a nutrirsi come greggi nell'aria infatti dice poi with living con vivide vive tinte e colori il piano e la collina selvaggio spirito che muovi ovunque distruttore e preservatore ascolta oh ascolta here oh here seconda strofa tu sul qual corso fra il tumultuare del ripido cielo nuvole sciolte si sfanno come marciscenti foglie scosse dagli arruffati rami di cielo e oceano quindi tu si rivolge sempre o meglio spesso ecco all'inizio delle altre strofe non della prima strofa la prima strofa abbiamo visto un vocativo invece nelle altre strofe proprio utilizza il pronome personale quindi tu riferito al vento diponente il vento dell'ovest in mezzo al cielo annuvolato che appare fatto di ripide montagne di nubi in lotta fra di loro nuvole sciolte si sfanno come marciscenti le nuvole dicevamo che marciscono le nuvole si disfano come le foglie che si decompongono prima abbiamo visto l'immagine delle foglie e adesso quella delle nuvole scosse dagli arruffati rami di cielo e di oceano questa è un'altra immagine che evoca l'azzurro del cielo che assomiglia al colore del mare su cui si stagliano i rami scossi dal vento autunnale il vento diponente appunto autunnale angeli di pioggia e fulgore messaggeri quindi angeli nel senso etimologico del termine no? angelon in greco voleva dire messaggero messaggeri di pioggia portatori di pioggia e di folgore e quindi di temporali dove sono sparse sulla celeste superficie del tuo aereo impeto come splendidi capelli irti sul capo di qualche fiera menade ecco qui vediamo gli effetti del vento che per esempio in questo caso muove i capelli delle menadi le menadi o baccanti erano le sacerdotesse di bacco del vino di Dioniso e che rappresentano il dionisiaco insomma diciamo quindi un modo di soprattutto durante le feste baccanali per esempio o appunto le dionisie si davano agli eccessi dal vago liminare quindi dall'orizzonte dal limite incerto però dell'orizzonte fino a sommo zenit fino insomma al punto più alto della sfera celeste le ciocche della bufera che si avvicinano sono le nuvole sparse nel cielo che appaiono come ciocche di capelli scompigliati e annunziano l'arrivo della tempesta tu inno funebre dell'anno che muore tu vento d'autunno vento dell'ovest che sembri quasi recitare il requiem funebre dell'anno che sta morendo al quale questa notte che viene sarà cupola cupola in un vasto sepolcro formata da tutta la sua forza congregata di vapori la cupola notturna del cielo appare come un vasto sepolcro per l'anno che sta morendo le pareti di questo sepolcro sono formate dalle nuvole dette forza congregata aggregata condensata di vapori umidi congregated might dalla cui solida atmosfera nera pioggia e fuoco e grandine scoppieranno oh here oh vento ascolta e incomincia così la terza strofa tu che svegliasti dai tuoi dai suoi sogni estrivi from his summer dreams il blu mediterraneo là dove giacque cullato dal fluire dei suoi limpidi rivi tu che hai svegliato insomma chi magari come il blu mediterraneo era convinto ancora di poter godere del tepore estivo cullato dallo scorrere lento delle sue correnti che sembrano appunto cullare il mare il mediterraneo nei suoi sogni accanto a una pomicea isola del golfo di baia quindi accanto ad un'isola dell'arcipelago campano del golfo di baia baia infatti vicino a Pozzuoli e quindi una località vicino a Napoli e vide in sonno vecchi palazzi e torri palpitare nel più intenso giorno dell'onda fide il mare in sonno i palazzi le torri palpitare nel più intenso giorno dell'onda nel giorno in cui il mare era più burrascoso tutti coperti di muschio azzurro e fiori così gentili che l'animo viene meno a immaginarli tu che al passaggio le distese forze d'Atlantico fendi in abissi quindi adesso abbiamo visto gli effetti del vento di Ponente sul Mediterraneo ma addirittura il vento di Ponente è in grado persino di fendere la superficie del mare Atlantico quindi dell'oceano in abissi in profondi gorghi mentre nel limo fondo mentre nel fondo del mare nell'estrema profondità del mare le gemme e i melmosi boschi che portano le secche foglie d'oceano riconoscono la tua voce e tosto grigi di paura e tremanti si spogliano o hear o ascolta termina sempre così con questa rima baciata e con questo hear ascolta almeno questa seconda e terza strofa e anche la prima terminano con questo vero ecco rivolge tutto con la sua violenza il vento di Ponente per esempio le gemme che però nell'originale erano i sea blooms quindi i fiori del mare la vegetazione marina le alghe marine i melmosi boschi ovviamente si intende le foreste e alghe insomma marine comunque poi ancora le secche foglie sono sempre le alghe di oceano riconoscono la tua voce cioè capiscono che sta arrivando il vento e tosto grigi di paura tutti quanti per esempio la vegetazione marina subito diventa grigia dalla paura dell'arrivo del vento tremanti si spogliano come gli alberi terrestri perdono le foglie la stessa cosa fa anche la vegetazione marina passiamo adesso alla quarta storia if I wear se io fossi una foglia morta che tu potessi portare se io fossi un agile nube notate ovviamente l'anaforo if I wear if I wear per nube per volare con te un'onda a palpitare in tuo potere e dividere di tua forza l'impulso solo me libero di te quindi qui anche il desiderio insomma dicevamo prima anche di medesimarsi nella natura e nel vento o se io potessi essere quindi una foglia morta che tu potessi portare via con te se fossi una nube riprendere immagini descritte più dettagliatamente nelle strofe precedenti delle foglie e delle nubi per volare insieme con te un'onda a palpitare in tuo potere e dividere di tua forza l'impulso solo me libero di te o incontrollabile o uncontrollabile se almeno fossi come nella mia fanciullezza e potessi del tuo vagare in cielo essere compagno come allora quando vincere la tua celeste corsa pareva cosa da poco se io potessi almeno come quando ero un ragazzino fare a gara con te quindi correre per gareggiare con il vento non avrei mai lottato così con te in preghiera nel mio desorato bisogno o sollevami come un'onda una foglia una nuvola vento dell'ovest prendimi portami su sollevami come fai con le onde le foglie le nuvole io cado sulle spine della vita sanguino un oneroso peso di ore quindi un peso un susseguirsi di tempo di vicende pesanti dolorose che si susseguono l'una dopo l'altra e quindi appesantiscono la mia vita ha incatenato e piegato uno troppo simile a te indomito e agile e altero è riuscito quindi questo susseguirsi di vicende pesanti e dolorose a piegare uno molto simile a te leggiamo adesso l'ultima strofa la quinta e ultima strofa make me the liar fammi quindi tua voce fammi tua lira ecco letteralmente rendimi tua lira tu vento rendimi tua lira quindi tua voce even as a forest is almeno come la foresta che importa se le mie foglie cadono come le sue il tumulto delle tue possenti armonie trarrà da entrambi un profondo tono autunnale dolce anche in tristezza sii tu spirito fiero il mio spirito sii tu me o impetuoso che tu possa diventare me ecco qui tra l'altro noi l'abbiamo sottolineato prima che insomma questo scegli era sicuramente un poeta che voleva essere uno spirito libero e quindi voleva essere come il vento libero da qualsiasi tipo di vincolo trascina i miei morti pensieri sull'universo come appassite foglie e affrettare nuova vita e per l'incantesimo di questo verso spargi come da inestinto focolare ceneri e faville le mie parole sull'umanità quindi ancora è tutto ardente di passione voglia di di trasmettere di comunicare anche attraverso questa poesia si attraverso il mio labbro alla dormiente terra araldo di una profezia the trumpet quindi letteralmente sarebbe che tu sia la tromba di una profezia o vento se inverno viene o wind and if winter comes can spring be far behind può la primavera essere molto lontana il vento in questo caso è proprio una specie di immagine che può essere assimilabile a quella del colle di leopardi piuttosto che al passeggero solitario di fronte a una distesa a una landa desolata di Friedrich piuttosto che la luna di Novalis è una specie di rappresentazione quindi di questo desiderio di infinito questa voglia quindi di immedesimarsi nella natura che è senza vincoli che è libera che porta via con sé tutto che stravolge tutto probabilmente è lo stesso poeta che rimpiange di non poter essere vento perché le ore di dolore le difficoltà della vita lo hanno reso troppo pesante legato per sempre alla terra vorrebbe essere libero come il vento di svolazzare ma invece è ancorato alla terra e quindi ha perso lui questa libertà vorrebbe riconquistarla forse rimpiange anche l'età della fanciullezza in cui sembrava poter avere effettivamente questa libertà l'età l'età